E' proprio vero, i computer ci circondano, ma siamo veramente soddisfatti di questi computer? I computer sono dietro ad internet, sembra quasi magia, sono dietro alle transazioni bancarie, al coordinamento dei voli nel cielo e sono dietro alla gestione dei magazzini di supermercati dove andiamo tutti i giorni, che noi affolliamo. Esistono computer potentissimi come questo che vedete qui dietro di me, il più potente super computer al mondo di proprietà di un centro di ricerca americano, in grado di fare un numero di calcoli spaventoso. Quindi direi che possiamo essere decisamente soddisfatti di come funzionano questi oggetti. Eppure ci sono delle cose che questi computer non sanno fare. Cerchiamo di capire cosa non sanno fare questi computer. Vi porto alcuni esempi. Il primo esempio riguarda la ricostruzione su computer in maniera esatta di alcune tipologie di molecole. Non serve sempre fare la rappresentazione esatta della molecola per studiarla nella sua completezza. In molte case tante proprietà della molecola riusciamo a dedurle anche se non abbiamo una rappresentazione esatta. Ma se avessimo la rappresentazione esatta, beh, sapremmo veramente fare molto nella scienza dei materiali, nella farmacologia, nello studio del nostro corpo e della natura. Ebbene, cerchiamo di quantificarlo in bit. I bit sono quei portatori di informazione che fanno funzionare appunto i computer. Sono dei piccoli interruttori che possono valere 0 o 1 e messi uno dietro all'altro formano i programmi, formano le informazioni che noi ci scambiamo quotidianamente con i nostri cellulari. Ebbene, prendiamo ad esempio la molecola d'acqua. Per poterla rappresentare, modellizzare, come diciamo noi, su un computer, c'è bisogno di 10.000 bit. Sono pochi. Le immagini che voi scattate con i vostri cellulari richiedono molti più bit di questi. Andiamo un po' avanti. Guardiamo, per esempio, le molecole simili a quelle dell'etanolo. Sono un pochettino più complesse, come vedete dalla formula, e hanno bisogno di mille miliardi di bit. Sembrano tanti, ma non sono così tanti. Riusciamo ancora a gestirli. Vi ricordo che abbiamo delle macchine come quelle che abbiamo appena visto nei centri di ricerca. Ma se facciamo un passettino un pochino più avanti, vediamo ad esempio una molecola come la caffeina, che in quest'ora della serata potrebbe anche esserci utile. Ebbene, qui andiamo su 10 alla 48. Intanto, cosa vuol dire 10 alla 48? Vuol dire che c'è un 1 e poi ci sono 48 zeri dietro. Allora, già è difficile immaginarsi un numero fatto con un 1 e 48 zeri. Sicuramente qualche zero ce lo perdiamo. Ma sicuramente non riusciamo a immaginare quanto possa essere grande un computer che è in grado di gestire tutti questi bit. Ebbene, vuoto per pieno, dovremmo fare un computer grande come mezza luna per poter gestire un calcolo di questo tipo in maniera esatta. Non sto dicendo che non siamo in grado di conoscere le proprietà della caffeina. Sto dicendo che se la volessimo rappresentare esattamente, e quindi studiarla in maniera molto più approfondita, servirebbe un calcolatore enorme. Quello che vi ho fatto vedere prima sarebbe una briciola a confronto. Ma andiamo su molecole un pochettino più interessanti per la farmacologia, per il funzionamento del nostro corpo. Ebbene, vediamo dei numeri spaventosi. 10 alla 82, alla 86, non abbiamo idea di che cosa sia. Ebbene, sono più di quanti atomi, stimiamo, esistano all'interno dell'universo. Dovremmo costruire un computer grande quanto tutto l'universo per poter rappresentare la molecola della penicillina. Sembra uno sforzo enorme. Ebbene, vi porto un secondo esempio. In questo primo esempio l'applicazione pratica è chiara. Dobbiamo cercare di capire come funzionano le molecole per creare nuovi materiali e portare dei vantaggi in ambito medico. Però il calcolo ci sfugge. Come si fa a simulare una molecola su un calcolatore? Adesso invece vi faccio un esempio in cui il calcolo è chiarissimo. Eccolo qua. Allora, l'operazione che va dal 3 per 5 al 15 si chiama moltiplicazione. L'operazione che dal 15 va dal 3 per 5 si chiama scomposizione in numeri primi. Le facciamo tutte e due alle elementari. I computer che abbiamo le sanno fare sia in una direzione che nell'altra. Aumentiamo un po' le cifre. Allora, noi non sappiamo fare nessuna delle due. I computer che abbiamo oggi, anche quel grosso cervellone che vi ho fatto vedere prima, sono tutti abbastanza in grado, sono molto rapidi a fare la moltiplicazione. ovvero l'operazione che va dai due numeri che avete a destra a quello che avete a sinistra. Sono estremamente inefficienti a fare l'operazione contraria. Ci mettono centinaia di migliaia di anni. E beh, qui la domanda sorge spontanea. Cosa ci interessa di questa cosa? Ci interessa molto. Perché noi questa incapacità dei computer che abbiamo oggi la sfruttiamo tutti i giorni. La sfruttiamo per proteggere i nostri dati. Dietro c'è la cosiddetta criptografia. Ok? Noi criptiamo i nostri dati sensibili con delle chiavi di questo tipo, essendo certi che anche il più grande super computer del mondo ci metterà tantissimo tempo, troppo tempo. La carta di credito scadrà molto prima di quando qualcuno riuscirà a decriptare il suo numero. E quindi anche in questo caso ci sono dei calcoli che i computer attuali non sanno fare. In questo caso però l'abbiamo sfruttato a nostro vantaggio e siamo molto contenti che non li sappiano fare. Ma da quanto tempo ci siamo accorti che il computer, così com'è alcuni calcoli, non sa fare? Ma da tantissimo. D'altronde il computer è uno strumento, come tutti. Qualsiasi tipo di strumento è utile a fare alcune cose e altre le fa meno bene. Qui ad esempio c'è il buon Richard Feynman, premio Nobel per la fisica, il quale aveva avuto chiaramente l'intuizione dicendo che la natura funziona in base alle leggi della meccanica quantistica. Ci sarà bisogno di un computer che funziona seguendo le leggi della meccanica quantistica per poterla simulare. E d'altronde quello che abbiamo tentato di fare nel primo esempio è proprio simulare la natura delle molecole. Questo lui lo ha detto 40 anni fa. Cerchiamo un po' di seguire il suo ragionamento. Abbiamo detto che i computer, come li abbiamo oggi, ragionano in questo modo. Sono degli interruttori che dicono sì e no. le mettiamo uno di seguito all'altro, ne mettiamo migliaia, milioni, miliardi e facciamo tutti i programmi che noi abbiamo. Però il portatore di informazione base può contenere solo questa semplice informazione. Zero o uno. Esistono delle particelle meccanica quantistica che noi possiamo mettere in uno stato particolare che è in grado di contenere un quantitativo di informazione enorme. si chiama stato di sovrapposizione quantistica. Ebbene, questo noi possiamo prenderlo come bit quantistico, o qubit, come viene chiamato. In un qubit io potenzialmente riesco a mettere tanta informazione che può essere rappresentata come un punto su una sfera. Facciamo un esempio pratico. Se io dovessi inserire all'interno di un bit, codificare all'interno di un bit, la mia posizione sulla Terra, quello che posso fare è dire se mi trovo nell'emisfero Nord o nell'emisfero Sud. Non posso dire altro in un solo bit. Ebbene, se io avessi a disposizione un qubit, potrei inserire all'interno di questo qubit la mia esatta posizione sul globo. capita bene quanta più informazione riusciamo a inserire. Ebbene, esistono altre proprietà della meccanica quantistica che ci permettono di inserire all'interno di un grosso numero di qubit un quantitativo di informazioni immensa. Ed è proprio quella che ci serve per risolvere i problemi di cui abbiamo parlato prima. E questa è la teoria. Sono passati tanti anni da quando Feynman ha detto quella frase da quando i ricercatori che studiano la computazione quantistica che si basa su questi principi hanno tentato di realizzare un computer quantistico vero. E la notizia è che oggi abbiamo un computer quantistico. Prima cosa, qual è il computer quantistico? Se voi andate su internet e cercate computer quantistico immagini trovate per la maggior parte delle volte qualche cosa che è più simile a ciò che vedete a destra. È quello il computer quantistico? No. Il computer quantistico in realtà è quello di sinistra. È il processore sul quale si trovano i qubit di cui abbiamo parlato prima e che ci sono voluti quasi 40 anni per riuscire a realizzarlo. Allora chiediamoci che cos'è quello a destra. Eh beh, quello a destra è un frigorifero. Quello a destra è un grosso frigorifero che serve a portare la parte inferiore, quel cilindro che vedete in fondo, a una temperatura che è più bassa della temperatura dello spazio interstellare. Sembra assurdo, ma è così, perché nello spazio interstellare c'è ancora un rimasuglio della temperatura dell'esplosione del Big Bang. Vi sembrerà strano, ma è così, è successo tanto tempo fa, ma c'è ancora un minimo di calore che viene da lì. Ecco, qui noi dobbiamo toglierlo. Perché dobbiamo toglierlo? Dobbiamo toglierlo perché il qubit che avete visto prima e i qubit soprattutto quando sono insieme sono delle strutture estremamente delicate. Qualsiasi tipo di interazione che proviene dall'esterno o dall'interno gli fa perdere tutte quelle belle proprietà che abbiamo visto prima e quindi quella capacità di immagazzinare un grande numero di informazioni e poi poterci fare dei calcoli sopra e li fa diventare dei semplici bit che possiamo usare senza dover utilizzare questi mega frigoriferi. e quindi noi lo abbiamo questo oggetto e già possiamo pensare e già stiamo applicandolo per studiare alcune molecole. Ancora non sono dei computer quantistici enormi, i più potenti hanno circa 50 qubit al loro interno. alcuni di questi sono a disposizione di tutti, chiunque può tramite internet usare dei piccoli computer quantistici e cominciare a programmarli. E ripeto, lo stiamo facendo per le molecole, lo stiamo facendo per esempio per la simulazione degli scenari economici. Ma allora, e la crittografia? Come la mettiamo? Beh, sulla crittografia io ho una notizia buona e una cattiva. La notizia cattiva è che noi già conosciamo il programma che serve per fare la scomposizione in numeri primi su un computer quantistico e sappiamo che la fa in maniera rapidissima. Addirittura lo sappiamo da tanto tempo. Questo è un algoritmo che ha scritto Peter Shore nel 1994, vent'anni prima che qualcuno costruisse questo coso. La notizia buona è che sappiamo che quell'algoritmo, quel programma per girare ha bisogno di un processore quantistico con qualche milione di qubit. Ebbene, noi crediamo che sarà possibile costruire questo oggetto, ma probabilmente ci vorranno dieci, vent'anni, avremo tutto il tempo per studiare sistemi crittografici che siano in grado di resistere ad un attacco di questo tipo. E già lo stiamo facendo. Ebbene, è estremamente emozionante per noi che ci lavoriamo a partecipare a questa rivoluzione del mondo dell'informatica. A me piace fare il parallelo con una rivoluzione che c'è stata nel mondo dei trasporti. Pensiamo agli inizi del Novecento i fratelli Wright. Dopo secoli che Leonardo aveva disegnato le prime macchine volanti, i fratelli Wright cominciavano a far volare i primi veliboli. Non avevano idea di quello che sarebbe venuto nel futuro, non avevano idea di come avremmo viaggiato noi e come si sarebbero spostate le merci. Sicuramente non avevano idea che dopo 60 anni saremmo andati sulla Luna. Ebbene, stiamo vivendo nell'informatica una rivoluzione pari a questa. Si stanno aprendo nuove professioni, servono ingegneri per costruire questi oggetti, servono informatici per costruire nuovi linguaggi di programmazione per questi oggetti, servono programmatori per scrivere i programmi che gireranno su questi oggetti. E dunque, benvenuti in una nuova era dell'informatica. Grazie. 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 Grazie.